Le vacanze sono come una boccata d'aria fresca nella nostra vita frenetica. Sono l'opportunità di scappare dalla routine, di rilassarsi e ricaricare le batterie. Le vacanze ci permettono di scoprire nuovi luoghi, di immergerci in culture diverse e di creare ricordi preziosi con le persone che amiamo. Sono un momento di distrazione dallo stress e una fonte di ispirazione per affrontare la vita con una prospettiva rinnovata. Quindi non aspettare, prenota quelle vacanze e regalati un po' di dolce libertà.